Se volete supportarmi su Fortnite, basterà andare nell'Item Shop, cliccare nelle rettangoline in basso a destra e andare ad inserire il mio nome, ovvero Kratomis. Accettare e il gioco sarà fatto. Non appena avete inserito il codice, lo vedete scritto qui in alto a destra. Ringrazio tutti coloro che decidono di supportarmi. Ah ragazzoli, quasi me ne dimenticavo. Non dimenticate di seguirmi sul mio profilo Instagram. Fidatevi, non ve ne pentirete. Link in descrizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa non è una regina del Garand. 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 facciamo un build fight non la facciamo più ah mi piace bravo si si vai prendi anche il frustino vai la facciamo più Sì, perché c'è scritto Coglione in fronte, vero? Guarda, guarda, c'è proprio scritto deficiente Nessuno ha chiamato tu launchpad What the fuck are you doing, man? Non imparano mai? Non lo capiscono Non gli vuole entrare in testa Ok Ok Dai, non ci arrivo? Che palle Ah, ora mi ha tirato una severata di vault action Quindi da qualche parte deve essere questo Dove? Non lo so Però Ma dopo prendo la palla Mi non è sicuro che non mi possono sniperare o altri cazzi Non c'è un hs ragazzi Ci proviamo chat C'è un po' 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 Ancora? Jesus C'è un po' 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 Easy Easy game